Io l'ho trovato qua, eh, in questo parco. Come si chiama? D-Lang. D-Lang? Come Bob D-Lang. Adesso sono nove anni che ce l'ho io. L'hanno abbandonato col chip, lui ha il chip. Ed è una persona che è anche benestita, che subito poi sul chip che ha, glielo mettono qua. Però non puoi più toglierlo perché è proprio sotto, fanno un'incisione, mettono un affare piccolino. E c'è il nome del proprietario, il numero di telefono, il nome del cane. E l'hanno tenuto quattro anni e dopo quattro anni l'hanno lasciato qua senza un collare, niente. Poi c'era mia nipote con il cane di mia figlia di loro che è venuto, è venuta e c'era sto cane che girava. Non riuscivano nessuno a prenderlo perché non avevo un collare niente. Allora Chiara mia nipotesi è abbassata, arriva due.